E per il video di quest'oggi come potete vedere ho un ospite eccezionale, il re dei dividendi si può definire, il cacciatore di dividendi per eccellenza Lorenzo. Ciao Lorenzo. Ciao Pasquale, grazie mille per avermi invitato sul tuo canale, un saluto di quelli che ti seguono e quelli che ci seguono. Speriamo di fare una bella puntata utile e interessante. Più o meno sequestrato perché sei diciamo in una situazione un po' particolare per cui cerchiamo di fare le cose fatte bene come sappiamo fare noi quando ci mettiamo a fare le cose. Oggi di cosa parliamo? Nei vari contenuti precedenti che abbiamo pubblicato si parlava sempre anche nel tuo gruppo Telegram ho visto degli ETF che seguono il mercato immobiliare, i RITs. Ma qual è meglio? È meglio questo, quell'altro? Abbiamo detto io e Lorenzo, ma perché non facciamo un video apposito? E per cui oggi parliamo di questo e parliamo, andiamo subito a presentare quello che è i migliori ETF su RITs con Pasquale e Lorenzo. Allora Lorenzo, di quali prodotti andiamo a parlare oggi? Del TREAT, dell'IWDP e dello USP? Sì. Prima di cominciare a parlarne, tu hai qualcuno di questi? Tutti e tre? Uno, due o tre? In portafoglio? Sì, no, ho il secondo, i WDP, l'iShares, mercati sviluppati, diversificato un pochino su tutto il mondo, un po' banale fra virgolette però ci sto facendo un piccolo piano d'accumulo perché mi sembra un momento, dopo poi magari andiamo ad analizzare meglio la situazione attuale, però mi sembrava un momento abbastanza propizio dai. Poi il dividendo trimestrale fa sempre comodo, fa sempre piacere. Io invece ho il TREAT, che per molti non piace perché è per la famosa tassazione olandese, però l'ho preso per un altro motivo che poi magari parliamo all'interno del video. Allora parliamo di alcuni dati. Prima di tutto la grandezza del fondo, abbiamo il WDP che hai tu, un miliardo e due di Assert Under Management, il TREAT che io ho 228 milioni, mentre l'Ishare US Property con il ticker USP 468 milioni. Come dividendi stiamo più o meno lì per tutti, diciamo che uscillano di poco. Quello che cambia in realtà sono le posizioni. Infatti l'IWDP che hai tu ha quasi 400 aziende nel calderone. Sì, sì, è sicuramente quello più diversificato. Infatti questa cosa qui è quella che mi piace un pochino di più. Perché così a prima occhiata, in confronto con il terzo USP, il Lyshares USP investe unicamente negli Stati Uniti. Che va bene, negli Stati Uniti insomma sempre la maggiore economia. L'S&P 500 solitamente sovraperforma le altre borse. Però magari sul mercato immobiliare il discorso è un pochino differente. E quindi ho deciso di andare a semplificare e andarmi a prendere l'ETF più diversificato. Il FANEC è diversificato globale, anche lui. Però ha più o meno un quarto delle azioni al proprio interno rispetto all'Ishares. E anche se aggiungiamo gli asset in gestione, 228 milioni contro un miliardo e due. Anche questa cosa mi ha fatto propendere per l'Ishares. Nonostante il TER effettivamente sia più alto. È abbastanza alto quello delle shares. Però poi magari dopo vedremo anche la schermata con i rendimenti totali. Perché a volte uno magari si preclude gli investimenti più costosi. Però magari potrebbero essere anche più redditizi. Andremo a vedere poi, andremo a vedere magari più avanti. Sì, io in realtà ho scelto il TRET per un motivo particolare. Il TER, sicuramente il costo. Ma anche perché ho fatto questo ragionamento tipo l'IWDP che ha 400 aziende. Però solitamente già le prime 10-15 aziende sono quelle che un po' vanno a trainare l'indice. Ho pensato dentro di me che in una tipologia di settore così ben specifico magari avere più aziende non avrebbe portato né una minore volatilità e magari forse neanche un minore o maggiore rendimento. Questo purtroppo ce lo dirà solo il tempo. Passiamo all'altra schermata. Le posizioni, le prime 10 posizioni per ogni singolo prodotto. Qui partiamo dal FANEC. Le prime 10 posizioni occupano quasi un 41%, 40.75. E noteremo, lo vedremo nelle successive slide, che più o meno, le prime 10 posizioni sono più o meno quelle. Perché abbiamo Prologis, Welltower, Public Storage. Eh sì, si ricalcano alla grande. Sì, infatti. Qui però abbiamo una differenza, proprio perché sono meno diversificate. Qui le prime 10 posizioni hanno un 40,75%. Per quanto riguarda le IWDP, le prime 10 hanno un 29,40%. Infatti rispetto al threat, la prima posizione che è Prologis ha un 10,52%, mentre qui già siamo un 7,63%, 3 punti percentuali meno che fanno la differenza in realtà. E invece nello IUSP, che è solo sul mercato statunitense, è ancora più accentuata la cosa, con quasi un 48% delle prime 10 posizioni. Guardando già questi dati, cosa possiamo trarne, secondo te? Ma allora, quello che hai detto te inizialmente è vero. Nel senso che le prime posizioni hanno un peso molto, molto importante. E quindi effettivamente la differenza poi fra il VanEck e l'iShares globali potrebbe essere abbastanza minima. Perché comunque nell'iShares, che è più diversificato, comunque 10 posizioni occupano un terzo del fondo. Nel VanEck le prime 10 posizioni occupano il 40% e addirittura in quello specializzato sugli Stati Uniti occupano quasi la metà delle prime 10 posizioni. Quindi molto, molto concentrato. In particolare su Prologis addirittura. Sì, in pratica Prologis è quasi un quinto, un sesso di tutto il portafoglio su quello americano. Sì, sì, ha una posizione molto importante. 12% su 100, veramente tanto. Insomma sarà un ottavo più o meno. No, posizione sicuramente molto, molto, molto importante. Questo qui è da tenere conto, direi, perché comunque nel breve periodo, perché poi si sa che gli ETF ribilanciano, nel breve periodo, dovesse succedere qualcosa di poco piacevole a Prologis, ad esempio, e l'ETF, di conseguenza, farebbe un bel drawdown. Era successo, ad esempio, era successo, uscendo un attimo dal seminato, sull'Eishares, quello sulle proprietà immobiliari europee. Vonovia, durante il 2023, era sceso parecchio. E quello sull'Europa era sceso tantissimo. Intanto dicevano, perché scende così tanto l'Europa e gli estremi ti regge, perché Vonovia, che occupa una posizione molto, molto importante, ma ora forse anche più di Prologis, era scesa tantissimo. E quindi aveva tirato giù l'ETF stesso. Poi magari succede anche il contrario. Magari Prologis c'è il botto e tira sull'ETF. Sì, perché credo che tutti e tre facciano una politica di capitalizzazione. Fanno parte dell'indice, sì. Sì, 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 sicuramente insomma quelli più capitalizzati avranno un peso più importante. Si parla sempre di Realty Income come RIT più famoso e poi in realtà andiamo a vedere dentro all'ETF e vediamo Realty Income che pesa abbastanza poco all'interno di EF di questo tipo. Prologis, che solitamente non viene nominata tantissimo, in realtà è quello più importante. Tra l'altro Prologis, che ho approfondito per conto mio qualche tempo fa, ha un dividendo piuttosto basso, però le azioni hanno fatto un balzo da abbrividire Apple, hanno fatto una crescita nel lungo periodo che è favolosa. Poi si sa, chiaramente se i dividendi non vengono, cioè se gli utili, e poi qui insomma nei RIT non si parla proprio di utili, non vengono distribuiti sotto forma di dividendi, probabilmente cresceranno in un altro modo. Adesso io Prologis non l'ho mai analizzata, però magari avrà utilizzato gli incassi per comprare nuovi mobili o altro, suppongo. Sì, perché Prologis si occupa di gestire immobili tipo industriale addetti ad esempio a magazzini, che so, di DHL, piuttosto che di un centro di smistamento logistico, per cui sono capannoni che di per sé hanno un costo minimo di manutenzione, perché la gente ci butta le proprie attrezzature, i propri materiali all'interno. Sì, anche se c'è qualche calcinaccio, dici vabbè insomma, non è che ci devo abitare. Sì, a differenza magari di quelli che sono gli office RIT oppure magari quelli che sono i public storage, per esempio sono gli storage RIT che per cui hanno necessità di modalità di accesso, di sicurezza, insomma è tutto un altro discorso. Beh, il bello dei RIT poi è proprio questo, che comunque tu alla fine è come se avessi, fra virgolette, degli immobili, almeno porzioni, piccolissime porzioni di immobili che metti a reddito, ti incassi i tuoi dividendi che sono gli affitti, la fin fine, lasci tutte le beghe che ci stanno dietro alla gestione degli immobili a dei manager più preparati di noi, con strutture, esatto, e poi non è che affitti a una singola persona e devi pregare affinché questa persona continui a pagare l'affitto. C'è una diversificazione ampissima, si va da appartamenti, negozi, uffici, terreni, capannoni, chi più ne ha, chi più ne metta e poi magari come inquilini ti ritrovi di HL, Amazon. E non hanno problemi a pagare l'affitto a FMS, sostanzialmente. Una cosa che mi ha molto incuriosito è il fatto che sia in questo del VanEck che in quello mondiale la Mitsui Foodosan, che è un'azienda giapponese, che di per sé, anche io che sono parecchio appassionato di RIT di cui non avevo conoscenza. Ma guarda, anche andare a spulciare dentro agli ETF si trovano a volte delle perle da andare ad analizzare. Poi, il consiglio è quello magari di partire da Just ETF, secondo me, ma non deve essere, direi, un punto d'arrivo, perché Just ETF sappiamo che ha i dati un pochino vecchi, cioè le posizioni non sono aggiornatissime solitamente pur comunque, anche io lo uso sempre come punto di partenza, per carità. E poi ti fa vedere le prime dieci posizioni. Se vai sul sito dell'emittente, iShares, VanEck, quello che è, ti apri le tue 400 posizioni, te le guardi tutte, ti annoi un paio di ore, però puoi guardare tutto quello che c'è dentro. E secondo me, insomma, è anche curioso, interessante a volte andare a vedere. Si trovano anche delle sorprese, magari alcune aziende, anche italiane, che non aveva mai considerato, al di fuori, insomma, dei REITs o altro. REITs in Italia non sono particolarmente... Qui sono sick, si chiama... No, ma c'è poca scelta. Sì, l'unico che andava bene era Colle, e l'hanno delistata. Perché non volevano avere tutto il controllo, secondo me, che aveva da azienda quotata. Cioè, chi l'ha preso ha detto, me lo gestisco a modo mio. Andiamo a parlare di rendimenti, perché qui la cosa si fa interessante. Ho fatto due slide, una con i rendimenti dividendi esclusi, e una con i dividendi inclusi. Guardiamola prima. Vediamo come quella che è andata meglio è il mercato statunitense, in questo caso, col VanEck in seconda posizione, poi quello mondiale, che va un po' peggio. Quando si va sui dividendi, anche in questo caso, gli Stati Uniti sono quelli che hanno dato il rendimento migliore, un 15-77%, VanEck con i dividendi 10,34%, mentre l'iShare Developed Markets solo un 5%. Secondo te, cos'è che può aver influito su questi rendimenti così differenti? Considerando, per esempio, che il VanEck costa meno di tutti? Allora, sicuramente l'iShare US Property, investendo solo sugli Stati Uniti, è difficilmente comparabile con qualcosa di globale. Allora, di prima occhiata, mi viene da dire che comunque c'è una correlazione incredibile tra i tre. Cioè, non è azione. e questo è sicuramente interessante. Andando a vedere un pochino il grafico, partendo dal fine 2018, inizio 2019, allora, viene da dire che fino, in pratica a luglio 2021, erano praticamente tutti in pareggio. E poi, da lì, è partita una sovra-performance degli Stati Uniti, che è durata da luglio 2021, in particolare, forse lì tra gennaio e luglio 2022, neanche un anno. Da lì, ha preso il vantaggio, ha preso un vantaggio, che poi ha mantenuto fino ad oggi sugli Stati Uniti. Dopodiché, bene o male, probabilmente, negli ultimi 18 mesi, si sono mossi in maniera abbastanza simile. Dividendi inclusi, se noi andiamo a confrontare il FANEC con l'iShares, mi viene da dire che il FANEC ha sicuramente leggermente sovra-performato, i numeri parlano chiaro, ha leggermente sovra-performato l'iShares di un 5%, tuttavia, bisognerebbe scorporare anche quel fatto della tassazione sui dividendi, che è leggermente favorevole per il FANEC, per l'iShares. Nel senso, se noi togliamo dai dividendi un 26% dell'iShares e dal FANEC gli togliamo qualcosa di più, il 15% più 26% che poi io non ce l'ho il FANEC ma qualcuno mi dice che non fa neanche il discorso delle azioni americane che diventa 37-10% ma diventa addirittura 41% forse questo dipende dal broker, non te lo so dire, allora il vantaggio in realtà si assottiglia un pochino. Sicuramente il fatto di costare meno quello lì è in dubbio è uno 0%, la differenza è 0-34% all'anno te lo guadagni in 5 anni adesso non è che si diventa ricchi però quasi 2% l'inflazione diciamo che viene coperta solo tramite il TER e quindi si insomma poi tra l'altro io ero parlato anche con l'iShares perché c'era il pack gratuito su directa adesso se non voglio anche fare il pack su directe c'è gratuito e insomma alla fine io non vedo una differenza così esagerata tra i due insomma magari in certi periodi va un pelino meglio uno in altri periodi va un pelino meglio l'altro anche in questo caso si è formata un pochino di divergenza tra la linea blu e la linea rossa quindi Faneca e shares da inizio 2021 fino a metà 2022 e poi dopo siamo rimasti un pochino lì dopo la forbice si è un pochino mantenuta bello anche vedere come fino in pratica al crollo adesso mi stavo avvicinando al video ma voi non mi vedete che mi avvicino al video indicavo col dito come a marzo 2020 diciamo crollo pre-crollo covid in realtà erano praticamente tutti tra uguali quindi non si vede proprio sembra uno sovrapposto all'altro potrebbe essere che dipende un pochino dai momenti sicuramente secondo me da questo punto di vista possiamo anche supportare che il fatto che l'inflazione americana sia stata abbattuta più velocemente in alcune cose anche il mercato di lavoro fosse più attivo magari anche questo ha aiutato in prospettiva questa performance maggiore anche perché teoricamente il mercato americano soprattutto quello di Ritz è stato particolarmente tartassato nel 2022 tipo aziende come Realty Income hanno perso un 22-23% cioè numeri piuttosto importanti per cui molto probabilmente il fatto che l'indice di per sé abbia contenuto anche aziende che in quel particolare periodo storico non fossero così impattate dalla inflazione così come erano alcune tipologie di Ritz forse potrebbe essere anche una cosa che ha guidato questa maggiore performance perché effettivamente poi è dal 2022 in poi che la forbice si è allargata fra gli Stati Uniti e il resto del mondo sì potrebbe essere una chiave di lettura giusta sicuramente insomma poi come un po' in quasi tutti i settori alla fine il mercato americano è sempre quello un pochino più sviluppato anche come detto in Italia Ritz sono praticamente assenti diciamo aziende quotate aziende immobiliari quotate un pochino di più in Germania in Regno Unito qualcosa in Francia in Spagna in Spagna io ho avuto un VIT che si chiama Merlin lì si chiamano Socimi che credo che sia società immobiliare anche lì qualcosa tipo il SIC italiano di per sé parliamo di dividendi a questo punto sì togliendo la performance a un anno perché mi piace i dividendi sono su così togliendo la performance a un anno che ovviamente non fa testo però quello che mi sembra di capire è che più o meno tutte queste tre soluzioni hanno dividendi crescenti a parte il 2021 anzi 2020 che è stato l'anno un po' più brutto dove molte aziende hanno comunque fermato tagliato bloccato il dividendo però per il resto mi sembra che questi etf tutti e tre vadano un po' ad aumentare il dividendo anno dopo anno sì sicuramente è molto legato da questioni anche sui tassi perché chiaramente i tassi alti riducono anche un pochino i guadagni forse dei REIT perché sono anche molto indebitati i REIT quindi con tassi alti si dovranno anche indebitare a tassi più elevati 2020 c'era stata la pandemia quindi probabilmente qualcuno avrà anche incassato meno a livello di affitti e poi si sarà ripercosso anche sul 2021 un pochino ma poi dopo sono comunque ripartiti nel lungo periodo nel lungo periodo insomma secondo me offrono comunque interessanti spunti di investimento danno oltre la possibilità di avere dividendi magari in crescita nel tempo comunque la possibilità di avere una bella regolarità di flusso perché comunque guardando l'iShares è quotato dal 2007 se non mi ricordo male dal 2007 ad oggi i dividendi tra alti e bassi sono comunque aumentati è sicuramente un settore ciclico questo qui è fuori di dubbio però insomma in determinate situazioni sono da tenere in considerazione è da andare a vedere anche così per farsi un'idea il grafico nel lungo periodo magari prendendo l'iVDP non perché è quello che mi piace di più o per altri motivi perché è quello che esiste da più anni sul mercato e quindi ci dà un'idea di quello che può succedere nell'arco di 15 16 anni che non è l'eternità però secondo me è già un periodo abbastanza rappresentativo ci sono cali ci sono grandi crescite e comunque all'interno di una ciclicità di questo tipo secondo me andare ad accumulare quando i prezzi scendono potrebbe essere una soluzione a lungo termine da andare a sfruttare perché comunque un ETF così tanto diversificato va a investire in tanti settori e non in un singolo settore come si può andare a fare magari prendendo un REIT singolo che bene o male se va male un settore potrebbe andare bene l'altro adesso ad esempio si dice che il settore degli uffici potrebbe essere sotto pressione perché smart working eccetera potrebbe portare a minor bisogno di uffici adesso tutti ne parlano il mercato già sconta questa cosa forse e magari fra due o tre anni saremo smentiti e si ritornerà tutti in ufficio sì anche perché molti datori di lavoro pensano che se qualcuno stia a casa faccia meno rispetto a quello che farebbe in ufficio insomma anche Elon Musk Elon Musk ai dipendenti durante la pandemia aveva fatto questa cosa è ora di tornare in ufficio però effettivamente anzi potrebbe essere invece una buona occasione quella cioè andare contrario a tutto quello che pensano gli altri perché gli uffici non ci saranno più invece magari gli uffici continueranno a esserci per lungo periodo e che si piazza su un RIT che gestisce prevalentemente gli uffici potrebbe invece fare l'affare della sua vita eh sì sì a volte no beh insomma approccio contrario a me piace tantissimo e poi ti dico sui RIT non so non mi sento così tanto preparato da andare a puntare su un singolo RIT ne ho comprato uno e Medical Property e ho cannato in pieno e insomma per fortuna esposizione piccola quindi pack sull'ETF e e via insomma qualcosa di di buono insomma ci si caverà fuori di sicuro ma anche non so ad esempio Gladstone Land è scesa è scesa tantissimo ha avuto un picco nel 2020 2021 poi è scesa tantissimo insomma si è un po' sestata è un settore abbastanza particolare quello dei terreni però insomma una discesa di questo tipo potrebbe rappresentare insomma una situazione interessante per andare ad accumulare e sicuramente dentro a questi ETF ci sarà sì sicuramente è un'azienda piccolina l'ho avuta in passato in portafoglio e poi mi fece tipo nell'arco di 4-6 mesi e se non ricordo bene il 100% più il 100% e lì andai a chiudere tutta la posizione perché nella mia mente ho detto non è stata una crescita fisiologica dettata da logiche di mercato è stata più una cosa una crescita di pancia e quindi non mi sono fidato però secondo me è un'azienda molto ma molto buona con un dividendo abbastanza bassino però che opera in un settore che più avanti si va col tempo e più scarso sarà come spazio occupato per cui chi ha i terreni agricoli fra 20 anni molto probabilmente avrà molti più introiti in termini di guadagno rispetto a quello che è adesso non lo vuole fare più nessuno no poi con la discesa che ha avuto adesso il dividendo quindi l'idea è salito tantissimo quindi sta anche diventando interessante quasi allora facciamo alcune considerazioni sui RIT dicevamo delle dinamiche macro quale potrebbe essere l'esposizione USA versus World e per quale ETF se World se è meglio quello che hai tu o quello che ho io e per quali motivi e a chi si addice ognuno di questi tre ETF io partire dalle dinamiche macro cioè abbiamo visto che nel 2022 effettivamente l'EIT hanno sofferto tanto e nel 2023 non hanno recuperato tutto proprio per una questione di tassi di inflazione questo periodo secondo te sta arrivando alla fine e quindi il 2024 sarà un periodo diverso? il contesto che abbiamo vissuto è stato sicuramente molto molto negativo per l'EIT qui non l'abbiamo già detto è inutile andarsi a ripetere solitamente il mercato cerca di ragionare con 6-12 mesi di anticipo un piccolo rimbalzo c'è stato se qui si va sempre per ipotesi non è che si possono dare le certezze per carità se effettivamente il rialzo dei tassi dovesse essere arrivato alla fine come ormai tutti dicono è stato contrario accade ma comunque se dovessero essere arrivato alla fine diciamo che il peggio per l'EIT potrebbe essere già passato e quindi insomma io mi aspetterai insomma una fase un pochino di assestamento e poi con il taglio dei tassi graduali si potrebbe ripartire poi se effettivamente si presentasse una situazione di di calo dell'economia molto molto forte di recessione molto importante magari qualcuno potrebbe anche far fatica a pagare gli affitti però se ne parla sempre di recessione non è mai arrivata ormai sono due anni che ne parla ma si dice sempre ne parli ne parli poi quando accade dici ho ragione lo dici da 20 anni è normale se non qualche piccola recessione tecnica di uno zero virgola però insomma non penso che una recessione di uno zero virgola possa portare a cali e crolli drastici pertanto potremmo essere potremmo essere forse cosa dice Pasquale Vicini a una fase di assestamento sì lo penso anch'io penso che ormai il peggio per questo settore ormai più giù di così non penso che possa andare ha avuto un piccolo rimbalzo poi ovviamente potrei essere smentito in qualunque momento però mi sembra che il momento peggiore effettivamente sia passato perché al massimo mi aspetto che vengano tenuti i tassi alti ma non che vengano aumentati a meno che ovviamente un altro evento inaspettato accade e vabbè quello non ci possiamo fare niente ah no no certo insomma anche perché i mercati sono usciti per due eventi inaspettati covid e guerra perché si poteva aspettare una delle cose e invece abbiamo visto sì esatto abbiamo visto una differenza abissale fra investire nel world e investire solo negli Stati Uniti secondo te vale questa differenziazione anche per il lungo periodo oppure possiamo sempre partire dal presupposto che seppure gli Stati Uniti siano l'economia maggiore magari non sarà sempre così e ci conviene coprirci guadagnando qualcosa di meno guardando su un ETF world io sono per la diversificazione più ampia quindi per il world perché comunque anche negli altri nazioni ci potrebbero essere situazioni interessanti al di là dell'Europa di cui abbiamo detto il Giappone potrebbe avere visto che l'immobiliare comunque è comunque un settore importante in Giappone potrebbe avere delle situazioni su cui investire e andare a scegliere singoli riti giapponesi diventa molto complicato bisogna fare analisi magari i dati che abbiamo non sono molto molto precisi comunque conta che il Giappone all'interno di questo ETF pesa il 10% c'è un 4% del Regno Unito un 4% di Hong Kong sono comunque in particolare il Giappone nazioni dove non è che ci sia tanto spazio per costruire quindi forse anche il valore degli immobili potrebbe essere destinato a crescere dopo che c'era stato sulla crisi giapponesa sulla bolla stagnazione giapponese erano arrivati a dei costi fuori da ogni logica ovviamente lo spazio è poco però i prezzi secondo me sono destinati a crescere perché lo spazio è quello sono alti eh sì i prezzi sono alti però o fanno delle nuove isole però o fanno una guerra con la Cina e ne aggiungiamo un'altra fra dieci anni ci sono più eh sì allora se andiamo sul world io e te abbiamo fatto due scelte diverse sul world abbiamo preso tutti due world abbiamo fatto delle scelte diverse perché e soprattutto quali di due a questo punto può essere il migliore perché effettivamente abbiamo io e te abbiamo la stessa dinamica di investimento la stessa mentalità di investimento ma pur essendo praticamente simili in molte cose abbiamo scelto due prodotti completamente diversi ma allora secondo me alla fin fine non c'è una differenza così grande da poter dire meglio uno meglio l'altro possono andare bene tutti e due allora sicuramente l'iShares paga un ter quindi un costo più alto però ha una diversificazione maggiore ha un fondo molto molto più ampio come come asset in gestione e forse anche una liquidità sul mercato leggermente più alta poi non ok un 3-4-5% in 5 anni non si butta mai via sicuramente però alla fine non vedo una differenza tale da dire è sicuramente meglio uno dell'altro io lascerai le mani abbastanza l'unico discorso è forse quello che avevo fatto io ho preso quello perché ha meno aziende perché penso che effettivamente le altre 300 in più vadano a influire pochissimo o poco sul rendimento totale molte volte addirittura le prime 10-15-20 posizioni dell'ETF si dice che facciano poi il rendimento di tutto l'ETF sì 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 poi guarda stavo guardando anche i rendimenti cioè il FANEC dall'inizio dell'anno ha fatto un 3,5 un 3,30 l'iShares 1,069 e questo solo quest'anno dall'inizio dell'anno quindi la forbice si è ampiata nel breve nell'ultimo anno probabilmente sì se noi tornassimo più indietro insomma si potrebbero fare anche valutazioni differenti quindi a seconda del periodo potrebbe essere stato meglio uno meglio l'altro purtroppo il 3 è talmente nuovo che non era possibile compararlo rispetto appunto all'iShares sì insomma non vedo guardavo il grafico nel lungo periodo c'è stato un periodo in cui va meglio uno un periodo in cui va meglio l'altro poi nel lunghissimo periodo secondo me alla fine non ci sarà questa divergenza così importante anche perché seguono indici leggermente diversi ma più o meno è la stessa roba secondo me anche le prime eventi sono simili per tutti e tre gli etf ma cambia forse la ponderazione in termini percentuali allora a questo punto diciamo a chi potrebbe essere adeguato uno rispetto all'altro perché abbiamo USP che è solo americano IWDP che è mondiale e tre anche questo mondiale ma preparato in maniera diversa secondo te a chi potrebbe andare bene uno di questi prodotti e perché allora USP sicuramente per chi ha una visione molto positiva sugli Stati Uniti per chi vuole qualcosa di molto più diversificato molto semplice diciamo i WDP e TREAT come detto secondo me bene o male si assomigliano e e quindi insomma vai a diversificare in tutto il mondo sia come azioni quindi come società ma anche come valute insomma non c'hai solo il dollaro tra l'altro anche in questo caso pensandoci effettivamente come valute magari USP potrebbe avere avuto una leggera sovra performance forse perché il dollaro si è apprezzato rispetto ad altre valute bisognerebbe andare a valutare anche quella cosa lì è complessissima da fare non so neanche se sia possibile però magari l'apporto che ha apportato la revalutazione del dollaro potrebbe aver aiutato USP in questo confronto e vengono anche gli spunti effettivamente quello che si dice in giro ci si aspetta che adesso il dollaro cominci a diventare diciamo meno conveniente nei prossimi anni a indebolirsi ah sì sì non lo so io leggo sempre cose diverse dopo poi insomma qualcuno c'è la zecca di sicuro chi dice che il dollaro ormai è arrivato a fine corsa perché c'è Cina Brasile i BRICS che vogliono mettere una nuova valuta c'è chi invece dice che il dollaro sarà sempre più forte perché l'Europa è in decadenza secondo me più cose hai meno possibilità di errori hai insomma magari guadagnerai meno però alla fine sei più tutelato sì in linea di massima per quanto mi riguarda USP per chi crede che il mercato immobile statunitense abbia sempre un vantaggio economico rispetto agli altri mercati mondiali i WVDP per chi preferisce avere una enorme diversificazione magari rendimenti leggermente più bassi ma comunque una stabilità una volatilità anche minore se si può dire così perché quando hai 300 aziende hai una volatilità minore rispetto a 100 aziende e il threat invece per chi vuole trovare un po' una via di mezzo si potrebbe definire così? Sì sì sicuramente insomma poi come abbiamo detto all'inizio ricordarsi che il threat paga la doppia tassazione sui dividendi proprio per non rimanerci male quando si incassa il dividendo uno dice ma perché è così basso pensavo fosse più alto ricordiamo appunto questa cosa particolare dei FANEC che non sconta diciamo la tassazione estera quando incassa il dividendo subito ma la fa pagare quando il dividendo viene distribuito un po' come le azioni singole straniera va bene quindi penso che abbiamo dato un po' una risposta a tutti penso che ognuno abbia le basi adesso per decidere in autonomia se questi prodotti vanno bene prima di tutto e poi quali di questi scegliere per se stesso eh sì spero di sì spero di sì insomma sfere di cristallo noi non ce l'abbiamo ogni tanto guardo nel cassetto niente non c'è però insomma l'importante è investire e farlo in maniera informata e quindi con criterio proprio perché a volte le cose non possono andare come ci aspettiamo però è giusto saperlo inizialmente perché qualcuno pensa magari che la borsa sia no ed è lì che si perdono i soldini bisogna avere un progetto eh sì sì magari diventa il banco per qualcun altro perché come si dice quando giochi a poker e non hai trovato non hai capito che il pollo molto probabilmente il pollo sei tu c'è questo detto esatto il pollo sei tu esatto grazie mille di essere stato qui con me quest'oggi Lorenzo spero di di avere altri video insieme a te perché parliamo sempre sulla stessa lunghezza d'onda quando si parla di Vilendi sì 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 ci proviamo nonostante i rispettivi impegni ci proviamo e niente noi ci vediamo un prossimo video ciao a tutti